Amici, romani, compatrioti, e eccolo questo pure oggi, prezzatemi orecchio, ecco cappuccia e corretto, ah beh Cesare, i modi su una stessa luta, disturba se registro, ma sa che cambio posso, aspetta, aspetta, Roma non ghettizza e lo straniero non si sente ghettizzato, no no, è che, è scivolo in piscio, 75, bingo, il bingo è corretto, ci sono altri bingo in sala? E' sovraggiunta in idoneità fisica la movimentazione dei merci, così è niente, insegnata proprio a movimentare i merci, ma ha visto quello tutto, a piano dei cross, io mi ammazzo, io mi ammazzo, capito, io mi ammazzo, trolo, aspercia, cucuzzolo e stendarello, e vino rosso, dalla casa, dalla casa te lo bevi di te, è disgustoso avere il posto accanto a questo bottegaio, non c'è dubbio, le voci vengono dalle tombe, ah io non ci credo a te cosa, Hai preso la pensione, dove ce l'hai? Il comune, no? Si strozza lui, si strozza il comune? Eh, però c'è, c'è una calma, attenzione Montella, la gran botta, non c'è ancora lui, per secondo, fritto misto, cervello, carciofi e filetto di baccalà, misteriosamente il cinese, l'afgano, l'arabo, a Roma diventa romano, si, ciao autore, Grazie Grazie Grazie